E di stand in stand continua il nostro peregrinare qui all'albergatore dei siamo arrivati di fronte allo stand della Tirrena Hotel Amentis per saggiare un po' anche gli umori e i pensieri dei vari espositori che insomma si sono confrontati con diversi membri del mondo dell'hotellerie in questa giornata. Che clima si sta respirando in questo giorno dell'albergatore dei? Beh direi un clima abbastanza frizzante, c'è parecchio movimento e c'è voglia di scoprire nuove proposte, nuove offerte e noi facciamo quest'anno del nostro meglio per dare una proposta diversa, di qualità. Quanto è importante per quanto riguarda diciamo il mondo dell'hotellerie un confronto e anche uno scambio di idee tra i diversi operatori? È fondamentale per quanto mi riguarda perché alla fine i problemi degli albergatori sono simili e quindi solo con il confronto si può migliorare e cercare delle nuove soluzioni.